Pamela Anderson, l'ex banina di Baywatch che ha fatto sognare molte generazioni, ha deciso di non truccarsi più e si è presentata alla Fashion Week di Parigi senza make-up. Una scelta liberatoria e anche un po' ribelle, dice lei. L'attrice si è confidata con il giornale Elle e ha spiegato come nel tempo è riuscita ad abbracciare un look più naturale. La prospettiva della Anderson sulla bellezza è cambiata quando la sua truccatrice Alexis Vogel è morta per un cancro al seno nel 2019. Da quel momento, dopo che lei è scomparsa, ho pensato che fosse meglio per me non truccarmi più. Queste le sue dichiarazioni. L'attrice americana, ormai 56enne, si è presentata alla sfilata della moda parigina senza un filo di trucco e questo ha generato commenti piuttosto positivi in un ambiente dove le donne sono spesso sottoposte a pressioni e a posture forzate. Soprattutto la sua collega attrice Jamie Lee Curtis è stata sorpresa dal suo coraggio e ha esclamato la rivoluzione della bellezza naturale è cominciata. E di questo atto di ribellione ha parlato anche la stessa Pamela dicendo che nota che molte persone si truccano in maniera esagerata e a lei piace fare l'opposto di quello che fanno tutti. Ha detto la sua anche sul tema dell'invecchiamento. Lei non ha alcuna paura di vedere le rughe sul suo viso. Per lei invecchiare è un viaggio. Alla prossima!